Buongiorno, altra sfida, da dove vieni Giuliano? Come ti vieni? Luca. Luca, la siena. Signore, allora, se vinci, dovessi 500 euro, se perdono, è da 2020. E ti porti la pizzacca? Vi doffa la cammanata. Posso a pensare? Allora, signore, questo è il telefono di Luca. 3, 2, 1, vai Luca. Andiamo alla riscossa e vediamo quello che succede. Ragazzi, siamo a 21 minuti, la terza fetta quasi. Luca, come ti senti? Il sapore com'è? Il sapore è buono. Il buono è il sapore. Perciò vediamo. E la cammanata ce la voglio vedere. E prima di poi questa cosa ci riesce. 7 minuti e 12 secondi, Luca ha deciso di non farci. Allora, per mettere, che ha dei pelle e me si sta mangiando. C'è la cosa che... Non è mai successo. Vai, per uno quello vedi, cioè, chi si parlava, si manda la testa. E ce l'ha detto, Luca, qua sta... Lo scopo che mi stai tirando. Sì, è buono.